Un omaggio a Federico Fellini che vedeva un Circenzi in ogni persona che incontrava, il firruge della mostra Circo Circenzi e dell'artista Italo Celli, con sculture e installazioni dedicate al circo e alle sue figure predominanti. Sculture, come dicevamo, installazioni di bronzo con una specialità che il maestro Celli coltiva sin dagli anni Ottanta. La mostra corrisponde a un incontro con il maestro Federico Fellini e consta di 30 sculture. Sono 30 pezzi unici in bronzo a cera persa, tutti tratti dalle ballerine, dai cavalli, dalle ginnaste, dagli equilibristi, pagliacci. Questo mondo molto apprezzato da Federico Fellini che nelle persone che incontrava tutti i giorni cercava di cogliere il pagliaccio che c'è in noi in fondo e lo trasmetteva poi nei personaggi dei suoi film. Le sculture hanno delle patine diverse a secondo il soggetto, a secondo il tipo, grandezze, misure a piacere. Molto attiva l'associazione La Vernice che con la Proloco di Fossa, la Ciuccietta e la Carispa ha deciso di portare a Fossa la mostra che in prima battuta doveva essere ospite di Santo Spirito ad Ocre nei giorni stessi del sisma dell'aprile 2009. Un modo, ci dice Tonino Antonucci, per ricordare che non c'è più ma anche per dire grazie a chi ci ha aiutato, anche a chi ha donato questo splendido centro polifunzionale che a Fossa ma non solo può essere uno straordinario centro di aggregazione. La mostra è anche un segno di speranza che ricorda i morti ma che non ci deve far dimenticare che abbiamo un dovere preciso che è quello di recuperare la nostra identità, la nostra vita e poi vorremmo ricordare chi ci ha fatto dono di questa struttura. La mostra inaugurata il 16 aprile rimarrà aperta sino al 7 maggio e si potrà visitare da martedì al venerdì dalle 16 alle 20 e sabato nei festivi dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.